Benvenuti all'appuntamento con 7 News. Iniziamo con la notizia di oggi, Melito, la guardia medica trasferita all'interno dell'ospedale. La direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha disposto il trasferimento della postazione di continuità assistenziale di Merito Portosalvo in via Giordano Bruno, in locali ubicati all'interno del presidio ospedaliero di Merito Portosalvo. Pertanto da lunedì 13 ottobre la postazione di continuità assistenziale sarà allocata in ambienti idonei allo scopo, con un'adeguata distribuzione funzionale utile quindi a garantire il pieno rispetto della privacy. Nello specifico trattasi di tre locali muniti di servizi igienici anche per i portatori di handicap, costituiti in una sala d'attesa ampia e confortevole, in un ambulatorio medico e un ambiente di riposo per il medico di turno. L'ingresso al servizio ubicato in piano terra e prospicente ad un'ampia area di parcheggio risulta di facile accesso. Confermata l'udienza telefonica e il trasferimento della postazione di continuità assistenziale in una struttura di proprietà. Appunto si inquadra nell'ampio programma di valorizzazione del patrimonio aziendale avviato dalla Direzione Generale e finalizzato al ridimensionamento della spesa per onerosi contratti di locazione. Bova Marina 40 mila Euro per risistemare l'arredo urbano. Sono in arrivo 40 mila Euro per interventi urgenti nel territorio del comune di Bova Marina. Ad annunciarlo attraverso una nota stampa è il capogruppo della provincia dei socialisti uniti PSI, Pierpaolo Zavettieri. Dopo l'emendamento del 23 luglio scorso la provincia ha ottemperato al suo impegno economico. La somma servirà per la riqualificazione dell'arredo urbano del centro grecanico. Si attendono quindi gli ultimi pareri tecnici in ordine alla determina di impegno. Fibrosi cistica è partita la dodicesima campagna nazionale per la ricerca contro la fibrosi cistica che si concluderà il 26 ottobre. Banchetti e presidi in tutte le piazze italiane con famosi ciclamini appunto e a questo proposito abbiamo raccolto la testimonianza di un volontario. Vediamo il servizio. La fibrosi cistica è una malattia genetica che colpisce quattro bambini ogni anno e chi è portatore sano di questa malattia purtroppo ancora non sa di esserlo. Noi siamo presenti sul territorio dall'11 in realtà al 26 ottobre la campagna nazionale. Cerchiamo di raccogliere fondi per la ricerca perché soltanto con una buona offerta e una buona ricerca si può vincere la fibrosi cistica. Noi saremo presenti sul territorio fino al 1 di novembre con la nostra delegazione di Reggio Calabria per cercare appunto di raccogliere i fondi a destinare al progetto di ricerca Task Force for Cistic Fibrosis che è una campagna appunto a livello nazionale. Quindi l'invito è anche di comprare questo bel ciclamino per dare un contributo. Noi offriamo i ciclamini, il mese di ottobre è dedicato appunto alla campagna del ciclamino e proponiamo anche l'offerta del libro del Bike Tour del nostro vicepresidente Matteo Marzotto che racconta un album fotografico e racconta l'esperienza appunto che abbiamo avuto noi di ogni delegazione d'Italia con appunto la ricerca sulla fibrosi cistica. Quindi diamo una mano a chi soffre di questa grave malattia affinché possa avere più respiro. Fiaccolata vittime 106. A San Lorenzo Marina si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime della strada statale 106. Grande partecipazione da tutta l'area grecanica per lanciare un messaggio forte sia agli organi competenti affinché rendano la strada più sicura ed efficiente sia agli stessi automobilisti per guidare con maggiore prudenza. Vediamo appunto l'intervista di Domenico Salvatore al parroco laurentino Don Giovanni Zampaglione. È stata una fiaccolata molto partecipata nonostante il tempo tantissima gente ha partecipato tantissimi sindaci dell'area grecanica c'erano diverse associazioni e c'era tantissima gente che ha voluto ricordare le tantissime vittime della strada. Con questo abbiamo voluto mandare un segnale forte a tutte le istituzioni. Abbiamo fatto questa fiaccolata per dire basta alle tante vittime della strada, basta ai tanti fiori sull'asfalto e codiamo precedenza alla vita. Ringrazio veramente di vero cuore tutti coloro che hanno partecipato. Non faccio nome perché rischio di dimenticare qualcuno. Ringrazio i sindaci, le istituzioni, tutti coloro che hanno partecipato e che veramente hanno partecipato con il cuore. La stessa fiaccolata che abbiamo fatto sulla strada l'abbiamo fatta in maniera silenziosa proprio per dare un segnale forte all'istituzione e per dare coraggio a tutte le mamme che hanno perso i loro figli proprio sulla strada. E' stato distribuito un santino, possiamo chiamarlo così? E' stato distribuito San Cristoforo è questo. Qui c'è un decalico di chi si mette in viaggio, è veramente un decalico forte. Ecco mi auguro che tutti coloro che hanno ricevuto questo segno e lo mettono in pratica. Perché la strada, come regge da questo decalico, leggo soltanto il primo, come la vita deve essere uno strumento di unione e non di morte. Ecco questo sintetizza tutto. Ecco mi auguro che per tutti chi si mette sulla strada stia attento a quello che fa, soprattutto quando guida. Grazie a tutti, grazie a Studio 95, grazie a saltolavecchia.com e grazie a tutti per aver partecipato a questo momento forte di riflessione di preghiera. Bova Marina, in difesa e per il rilancio della ferrovia ionica. L'importante presidio in settimana a Bova Marina contro la decisione di RFI di sopprimere la stazione di Bova Marina, eliminando il secondo binario e declassandola quindi affermata sulla linea. Presenti i sindaci dell'area grecanica, i sindacati e numerosi cittadini. A questo proposito vediamo il servizio di Maria Natalia Iriti. Grande partecipazione a Bova Marina in difesa per il rilancio della ferrovia ionica. La manifestazione promossa dal Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Bova Marina, è stata condivisa da un centinaio di manifestanti che si oppongono alla scelta di sopprimere, entro dicembre 2014, il secondo binario nelle stazioni di Marina di San Lorenzo, Bova Marina, Capo Spartivento, Ferruzzano, Ardore, Marina di Gioiosa Ionica, Caolonia, Riace, Squillace, Rocca Bernarda, Isola Capo Rizzuto, Rosetto Capospulico, Policoro Tursi. La ferrovia ionica subirà gravi disservizi e l'utenza avrà pesanti disagi in un territorio già deprivato e a rischio di abbandono, hanno spiegato Domenico Gattuso e Sergio Grasso, che da anni si battono per il rilancio della ferrovia ionica. Il trasporto è indissolubilmente legato alla crescita economica, turistica, culturale e sociale di un territorio. Per questo motivo la difesa della ferrovia ionica falleva sulla sensibilità civica e sulla sinergia istituzionale. Per il momento sono 30 le adesioni spontanee dei sindaci e a Bova Marina erano presenti, accanto al sindaco Vincenzo Cruvi, i sindaci di Bova, di Rogudi, Staiti, Motta San Giovanni, Bagaladi, cui si è aggiunto il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri. Domenico Gattuso ha illustrato le azioni prioritarie a contrasto della decisione di RFI. Anzitutto la convocazione in Calabria in un tavolo tecnico col Governo nazionale, il blocco delle operazioni di smantellamento, l'acquisto di 15 treni regionali di ultima generazione per un nuovo piano di rilancio dei servizi di trasporto ferroviario su standard di qualità europei, il recupero delle stazioni, il ripristino dei collegamenti ferroviari dismessi, il potenziamento della flotta delle navi veloci attraverso lo stanziamento di adeguate risorse. La quarta iniziativa del Comitato si terrà a ordore il prossimo 25 ottobre. Reggio Calabria, rimossi e distrutti due ordigni bellici. A Reggio Calabria gli artificieri della compagnia Guastatori dell'esercito della Manz di Castrovillari, supportati dalla Polizia di Stato e da un nucleo artificieri dei carabinieri di Reggio Calabria, appunto, hanno rimosso e distrutto una bomba da mortaio e una granata d'artiglieria perforante da 90 mm, entrambe appunto dei residuati bellici. Cafiero De Rajo non potremmo mai rinunciare ai collaboratori di giustizia. In un'intervista della trasmissione di Radio Rai, Radio Anch'io, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Cafiero De Rajo, ha parlato del tema collaboratori di giustizia. I collaboratori di giustizia sono lo strumento fondamentale per combattere le mafie, appunto detto De Rajo. Senza di loro avremmo una visione parcellizzata e marginale dello stesso fenomeno. È uno strumento al quale non potremmo mai rinunciare. Reggio Calabria, confermate le condanne per gli imputati al processo affari di famiglia. Confermate le condanne già inflitte in primo grado agli imputati del processo affari di famiglia di Reggio Calabria. Accogliendo in pieno la decisione del gruppo Carlo Indelicati, il sostituto procuratore di Reggio Calabria Adornato ha chiesto la conferma della condanna a 6 anni e 8 mesi per Filippo Fontana, accusato di associazione mafiosa e tentata estorsione. È quella di 2 anni e 8 mesi per Giovanni Gullì, in primo grado riconosciuto colpevole solo di tentata estorsione. Per l'accusa entrambi sono coinvolti nel pizzo imposto dai clan nei cantieri della strada statale 106. L'ultimo servizio si tratta del motoraduno che si è tenuto nell'area grecanica e organizzato dal motoclub Aquile del Sud di Bova Marina. Ai nostri microfoni il responsabile nazionale della commissione turistica della Federmoto, appunto Michele Traverso, il quale lo ha intervistato per noi Lidia Zumbo. Questa è una manifestazione che non vogliamo che rimanga chiusa nell'ambiente dei motociclisti, ma che venga conosciuta anche dall'ambiente della Spormonte, dell'ambiente della riviera di Bova, che tra l'altro è una città molto bella, e che offre la possibilità nei dintorni di vedere qualche cosa che veramente è interessante ed è particolare. Lei mi chiedeva perché portiamo i motociclisti a fare degli itinerari fissi? Perché riteniamo che proprio la moto sia uno strumento per fare turismo, forse lo strumento migliore che esiste nel mondo, a parte i cavalli, ma oggi sono cavalli meccanici, cavalli di ferro i nostri, che ci consentono di fare delle strade che normalmente non facciamo, che normalmente la gente non conosce, a portare a vedere queste meraviglie turistiche, storico-culturali, che sono un patrimonio inscindibile dell'Italia. Qui ieri siamo stati a Palizzi a vedere questa città del vino, questo borgo che fa parte dei borghi mediovali più belli d'Italia, in questo momento stanno per partire per giungere all'ultimo itinere di questa giornata motociclistica a Bova Alta, che mi dicono essere molto bella, per cui finito con voi andrò a vedere anch'io Bova Alta. Ed è, credo, lo spirito e lo scopo per cui siamo qui. Quindi riunire i motociclisti, fare aggregazione, ma fargli conoscere le bellezze del territorio. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando alla prossima settimana.